E' da tanto tempo che non parliamo di programmi di editing qui sul canale, ma recentemente Adobe ha rilasciato la beta di Photoshop con delle novità che hanno fatto veramente tanto tanto clamore. Oggi ragazzi voglio parlare con voi di quelle che sono appunto le principali novità introdotte e farvi vedere come funzionano. Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati qui sul canale. Avete capito bene? Oggi parliamo di Photoshop beta e voglio mostrarvi quelle che sono le principali novità che hanno introdotto in questa versione del programma, farvi vedere come funzionano e soprattutto parlarne un pochino con voi. Andare a sviscerare questo discorso perché tanti si sono espressi a favore, tanti contro, vorrei dire la mia e soprattutto confrontarmi con voi. Partendo da quelle che sono le principali novità che hanno introdotto all'interno di questa beta, in realtà non abbiamo tantissimo dal punto di vista quantitativo perché fondamentalmente hanno aggiunto questa funzione chiamata Generative Fill che non fa altro che andare sostanzialmente attraverso l'intelligenza artificiale a rimuovere, aggiungere, sostituire elementi all'interno di un'immagine e volendo anche all'interno di un file bianco vuoto e come dissi già tanto tempo fa in un altro video, la fotografia anche si sta muovendo in questa direzione, nella direzione delle intelligenze artificiali e Photoshop è stata la prima a introdurla, sono certo che in un qualche modo un giorno la vedremo ad esempio anche all'interno delle fotocamere. Non so come, non so quando, ma sono certo che arriverà. Oltre al Generative Fill hanno introdotto finalmente una miglioria per quelli che sono i filtri graduati che nella versione chiamiamola classica di Photoshop sono una schifezza più totale. Bene, con questa nuova versione di Photoshop con maggiore potenza e soprattutto con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale abbiamo la possibilità di vederli in anteprima mentre li facciamo in una maniera veramente super super interessante che a breve vi farò vedere. Hanno anche migliorato ovviamente vari strumenti, ad esempio la rimozione attraverso il pennello correttivo che è migliorata, va a lavorare in maniera più precisa a seconda della posizione dell'elemento che stiamo andando a rimuovere. Insomma ragazzi, hanno migliorato cose che già erano estremamente utili ed estremamente performanti e che già erano state migliorate negli ultimi mesi, ora siamo ad un nuovo livello. Ma prima di andare avanti con il video ragazzi vorrei parlarvi dello sponsor di oggi, UPDF. UPDF non è altro che un software disponibile per Windows, Mac, iOS e Android sotto forma di applicazione che vi dà la possibilità di andare a visualizzare e modificare i vostri file PDF. Sono presenti all'interno dell'applicazione tante funzionalità molto molto interessanti, tra cui la possibilità appunto di modificare i vostri file PDF esattamente come se fossero dei file Word, la possibilità di andare a scrivere anche delle annotazioni, delle sottolineature in giro per il file PDF, in modo tale da scrivere dei vostri appunti, che male non fa mai quando si va a maneggiare dei file di questo tipo per lavoro. Inoltre sono presenti la possibilità di riordinare le pagine all'interno del file, quindi andando a posizionarle come meglio preferiate, e ovviamente la possibilità di andare ad esportare i file PDF in tanti altri formati a disposizione, in modo tale che siano sempre leggibili ed apribili da chiunque. E per concludere è anche molto interessante all'interno dell'applicazione la possibilità di andare a scannerizzare dei documenti cartacei e convertirli direttamente in PDF, in modo tale da poterli poi modificare, lavorare e servare all'interno del vostro computer. Detto questo ragazzi, nel caso foste interessati a UPDF, in descrizione trovate tutte le informazioni del caso che possono esservi utili per scaricare l'applicazione, che vi ricordo è disponibile anche in una sua versione gratuita, e detto questo possiamo tornare su Photoshop. E vorrei iniziare mostrandovi questo scatto che ho realizzato recentemente in un mio viaggio a Napoli, è una foto che così come la vedete presenta soltanto la color correction, e vorrei andare a fare alcune migliorie, perché ci sono presenti degli errori, delle cose che non potevo sistemare durante la fase di scatto, e di conseguenza voglio rendere questo scatto il quanto più vicino alla perfezione possibile. Nello specifico voglio andare a rimuovere questa persona, rimuovere il lampione, rimuovere questo tombino qui davanti, e a livello compositivo non sono soddisfatto di questo scatto, perché come state vedendo avrei voluto che la persona fosse posizionata precisamente sul terzo. Praticamente dovrei andare a ricostruire una bella porzione dello scatto, e questo è quello che vorrei fare con il Generative Fill di Photoshop. Ma andiamo a capire come funziona questo nuovo tool. Sostanzialmente non vi basterà che andare a selezionare un elemento, quello che preferite, in questo caso io seleziono ad esempio la persona qui dietro, la vado a selezionare, e in automatico comparirà qui sotto questa barra, che è suddivisa con riempimento generativo, che in inglese è Generative Fill, e tutta un'altra serie di modifiche e lavorazioni che potete andare a fare, che in maniera predittiva Photoshop vi va ad anticipare. Quindi attraverso una selezione del genere Photoshop vi va a dire che potete andare a modificare la vostra selezione, invertire la selezione, trasformarla, creare una maschera di selezione, oppure fare riveli di regolazione, riempirla, insomma. Va a darvi una shortcut per quelle che sono le funzionalità che probabilmente dopo una selezione si potrebbero andare a fare. Non è il nostro caso, io voglio andare attraverso il riempimento generativo, e in questa tab di testo non devo fare altro che andare ad indicargli cosa voglio che Photoshop vada a fare all'interno della selezione. Di conseguenza, solo in inglese, perché non è presente in altre lingue al momento, vado a dirgli di andare a rimuovere questo elemento. E come state vedendo, il lavoro che Photoshop ha svolto è praticamente perfetto. La persona è stata rimossa, il muretto è stato ricostruito. Inoltre, Photoshop vi propone anche tre varianti che vanno semplicemente a migliorare, a cambiare il nostro scatto come meglio preferiamo. Di conseguenza, la prima modifica è stata fatta in maniera praticamente perfetta da Photoshop, e il risultato è sbalorditivo per quanto mi riguarda, ragazzi. È molto più potente di riempire in base al contenuto, che non lavora così bene e soprattutto non va a ricostruire così bene. Tutta, ad esempio, questa parte di muretto tendenzialmente riempire in base di contenuto in situazioni del genere va a creare di disastri. E ora voglio andare a selezionare, anche in maniera piuttosto grossolana, questo tombino e tutta la parte di muratura brutta e tremenda che è presente, e andarlo ad uniformare con le piastrelle qui a lato. Di conseguenza, anche qui vado ad indicargli di rimuovere questo elemento, e non vado, mi raccomando, a specificare di ricostruire le piastrelle, perché l'intelligenza artificiale, automaticamente riconoscendo quello che è l'ambiente circostante a ciò che ho rimosso, andrà a riempire la mia selezione con quello che è appunto l'ambiente circostante. E come state vedendo, ragazzi, il risultato è praticamente perfetto. Photoshop ha addirittura ricostruito il palo della grondaia che era qui presente, e il risultato è praticamente impossibile da andare a rintracciare all'interno di una foto. Se io vedessi una foto del genere, per me sarebbe impossibile capire che è stata sistemata e corretta con un'intelligenza artificiale. Ma venendo invece al lampione, che come potete immaginare per Photoshop attraverso questo Generative Fill è una passeggiata da andare a rimuovere, quello che vado a fare è selezionare il lampione, ripeto, anche in maniera estremamente approssimativa, a dargli come comando Remove, e ora, dopo un breve tempo di caricamento, e vi faccio presente che sto lavorando su MacBook Air con M1, quindi non con una macchina performante, con delle tempistiche, a mio avviso, clamorose per delle lavorazioni così complesse, va a fare un lavoro praticamente perfetto. Ragazzi, come state vedendo, lo scatto ora è praticamente diventata un'altra foto completamente, è molto più pulita, è stata migliorata tantissimo, e quello che voglio andare a fare ora, sempre partendo da questo scatto principale, è andare a ingrandire lo scatto per avere il mio soggetto esattamente sul terzo, quindi avere una composizione ottimale e non figlia dell'errore che ho fatto io direttamente in fase di scatto. In conseguenza, quello che vado a fare è fare una selezione, lasciando sempre un po' di margine, e poi ad invertirle in modo tale da andare a selezionare queste due fasce vuote. Io qui vado a non scrivere niente all'interno del box di testo, ma semplicemente a cliccare su Genera, perché in automatico Photoshop, riconoscendo lo scatto che sto cercando di ampliare in tutte le sue aree vuote, va a crearmi una selezione già uniforme rispetto a quella che è la foto iniziale, di conseguenza lo stato finale sarà in linea con quello che è lo scatto di partenza. E qui ragazzi, come vedete, si è creata fondamentalmente la magia, perché la foto è praticamente perfetta. Qui si vede un pochino di casino che è andato a creare qui sul muretto, che è facilmente corregibile poi dopo manualmente con un timbro clone, anche se sono dell'idea che guardando la foto nella sua totalità, non sapendo com'è effettivamente questa zona, non si vada a rintracciare questo errore che ha fatto Photoshop. Un errore che non mi piace, che ha fatto, è stato ricreare anche il cielo, però con una colorazione a mio avviso completamente sbagliata, vado a fare la stessa identica cosa che ho fatto per la parte vuota, quindi facendogli generare un nuovo pezzo di albero, sostanzialmente per riempire quello spicchio che fa capire effettivamente che sulla foto sono state fatte elaborazioni in post-produzione estremamente pesanti. E di conseguenza il risultato finale sarà questo, un risultato finale praticamente perfetto, un risultato finale che non fa sospettare che ci sia una lavorazione di una I, a meno che non si conosca esattamente questa zona. Molto interessante anche come è andato a ricostruire questa parte di mattonelle circolare, e ha seguito appunto la linea delle mattonelle, e non ha fatto altro che amplificare la mia foto. Di conseguenza io sono partito da uno scatto del genere, da uno scatto clinico che aveva problemi di composizione, elementi di disturbo, e sono arrivato ad avere uno scatto del genere che è molto più pulito, è realizzato con tutti i crismi del caso, e a mio avviso è veramente difficile capire che è stato modificato e migliorato con una I. Ma ora, per andare a mettere in difficoltà Photoshop, perché qui ragazzi vogliamo capire soprattutto i limiti di Photoshop beta, quello che voglio andare a fare è rimuovere la macchina qui, dove c'è il murales di Maradona qui dietro. È un punto molto critico perché abbiamo un paletto, abbiamo una ringhiera, abbiamo un murales che lui dovrà ricostruire non sapendo minimamente com'è questo murales, quindi quello che vado a fare non è altro che andare a selezionare la mia macchina con il solito tool di selezione oggetti automatica di Photoshop, che è stato anche migliorato nella visualizzazione, come state vedendo. Ora, andando a cliccare sul riempimento generativo, vado a dargli come input, rimuovo, per vedere cosa succede. Qui sono molto curioso di vedere quale sarà il risultato che Photoshop porterà a casa, perché effettivamente è molto difficile da andare a rimuovere e manualmente penso sia al limite dell'impossibile a meno che non si abbia una foto pulita con cui andare a ricostruire tutto. E ragazzi, come vedete, Photoshop è riuscito a rimuovere la nostra macchina andando a ricostruire anche il murales. Chiaramente bisogna in questi casi vedere le varie versioni per andare a capire cosa può essere quella più funzionale. Questa, a mio avviso, è la versione più completa perché dà più un'idea di murales. Ha ricostruito leggermente la maglietta di Maradona, però poi dopo ha ricostruito un muro bianco un pochino rovinato in linea con quello che appunto può essere il palazzo. Questa versione qui è quella che mi convince un po' meno, non tanto per come l'abbia ricostruita, che tutto sommato non è male, ma perché ha messo una camicia aperta al posto della divisa del Napoli, che per chi un minimo segue il calcio sa che è una grande cazzata su murales del genere. Diciamo che per una rimozione del genere io non l'utilizzerei perché secondo me questa forse è un pochino troppo e secondo me si capisce. Qui si riesce a individuare effettivamente che c'è qualcosa di strano perché ad esempio questo paletto è stato rimosso, insomma, in maniera non ottimale e andrebbe poi dopo rifinito manualmente con timbro clone top, quello che preferite voi. Però tutto sommato il risultato comunque è estremamente valido. Ha fatto qualcosa che manualmente richiederebbe veramente una quantità di ore di lavoro non indifferente. E ora che abbiamo parlato del generative fill voglio farvi vedere quello che è l'altro tool che è stato migliorato in maniera veramente molto molto interessante, ovvero il gradiente. Io normalmente utilizzo il gradiente su Photoshop o per andare a dare delle sfumature di colore, ad esempio in grafica, oppure molto semplicemente per fare un effetto vignetta all'interno di una foto. Io ho preso questo scatto dove ho sì una vignetta a destra e a sinistra nella parte bassa della foto, ma voglio andare ad aggiungerla anche nella parte centrale. Di conseguenza quello che avrei fatto ad esempio su Lightroom è come fare un filtro graduale e andare ad abbassare l'esposizione per creare la vignetta. Normalmente nella vecchia versione di Photoshop si poteva fare sì questa cosa, ma non avreste visto l'anteprima durante l'esecuzione appunto di questo gradiente. Con la nuova versione di Photoshop Beta possiamo vedere effettivamente in anteprima come si fa a muovere il nostro gradiente. Di conseguenza andando a selezionare la sfumatura da nero a trasparente vado a realizzare il gradiente e come vedete esattamente in maniera totalmente analoga a quello che succede su Lightroom io vedo la vignetta man mano che la vado a realizzare. Questa cosa è fighissima ragazzi per quanto mi riguarda perché finalmente rende questo tool ampiamente utilizzabile anche su Photoshop. Più che altro lo rende utilizzabile senza quella grande scomodità che aveva prima perché dovevate sostanzialmente andare ad applicare metodi di diffusione su metodi di diffusione per riuscire a vedere l'effetto finale. Sostanzialmente quello che fa Photoshop ad essere in automatico è andare a mascherare la parte che non ci interessa e farci vedere solo quello che appunto siamo intenzionati ad andare a lavorare nella nostra selezione a gradiente. Ragazzi queste sono le due principali novità che ci sono su Photoshop. Sì è stata migliorata anche tutta la parte di tool per lo strumento rimuovi che va a diventare sicuramente molto più performante. Ad esempio qui se io vado a selezionare la nave lui in automatico andrà a rimuoverla ricostruendo anche la parte di costa che è presente dietro perché in teoria detta di Adobe va a riconoscere meglio l'area in cui sta lavorando di conseguenza va a ricostruire in maniera più precisa e minuziosa. Abbiamo appunto il generative field di cui abbiamo appena parlato e abbiamo questa parte di gradienti che è veramente molto molto interessante. Come avete visto il lavoro che ha fatto è molto valido. Insomma ragazzi la beta di Photoshop secondo me è un primissimo passo verso una maturazione veramente importante di questo programma e io non penso che questa roba vada effettivamente a screditare a rovinare il lavoro di fotografia o la fotografia in generale. Ho visto tante persone adirarsi incazzarsi come dei mostri per questa introduzione perché ora non è più fotografia e si possono rimuovere ingrandire le foto e fare quant'altro. Ragazzi non tutti cercano un approccio purista alla fotografia non tutti cercano questo approccio a mio avviso vecchio e stantio del la foto è quella che esce dalla camera punto tanti poi le foto le fanno evolvere attraverso la post produzione. Siamo nel 2023 e le cose si evolvono. Questa è la naturale evoluzione di quello che in realtà già esisteva perché queste cose venivano fatte già senza la beta di Photoshop ma con ore e ore di post produzione e bestemmie davanti a Photoshop facendolo manualmente. Di conseguenza ben vengano aggiornamenti del genere ben vengano opportunità del genere perché io adesso penso ad esempio a tanti scatti che ho scartato nel corso di tutti questi anni perché avevano dei problemi strutturali da elementi da rimuovere o composizioni sbagliate per scattare velocemente e ora potrei ad esempio recuperarli al 100% e rendere degli scatti pubblicabili. E io sono convinto che anche il più grande dei puristi della fotografia davanti a una foto lavorata come ad esempio la prima che vi ho fatto vedere all'interno di questo video come questa non sarebbero minimamente in grado di capire che è stata fatta grazie all'aiuto di un'intelligenza artificiale per ricostruire alcuni pezzi. In ogni caso non è niente di nuovo perché è nuova la modalità di esecuzione ma è la stessa cosa che veniva fatta in un altro modo è semplicemente un'enorme agevolazione. Detto questo ragazzi il video è finito io spero che questo video vi sia piaciuto e spero che queste nuove funzionalità di Photoshop vi siano piaciute vi siano interessate secondo me è stato molto molto interessante vedere come Photoshop ha implementato l'intelligenza artificiale e secondo me già vedendo come lavora la beta ora a mio avviso molto molto bene stranamente conoscendo Adobe secondo me nel futuro ne vedremo delle belle. Per chi ha già un abbonamento Adobe è gratuita quindi provatela con mano, testatela, divertitevici io la sto usando tanto mi sto divertendo come un bambino ad utilizzarla anche facendo delle cose apparentemente molto stupide che normalmente non farei soltanto per stressarla e vedere fin dove può arrivare. Detto questo ragazzi il video è finito parliamo qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento e di questa nuova funzionalità che a quanto pare sta cambiando il modo di fare fotografia a dettaglio di alcuni detto questo il video è finito se il video è piaciuto lasciate un commento e mi piace e noi ci vediamo ogni giovedì alle 19 qui sul canale con un nuovo video ciao ciao